salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video qualche mese fa ho portato qua sul canale un video confronto sui pro e contro tra due console is box serie x o serie s anche anche se ovviamente è un pochino inferiore anche per quanto riguarda il prezzo e playstation 5 ovviamente non era un video confronto su quale meglio quale peggio ma solo sui pro e contro che ogni acquirente dovrebbe sapere prima di acquistare una di queste due console perché ovviamente a parità di prestazioni a parità di tutto quello che volete i servizi dati i giochi che vengono dati per ogni console il design che è questo uno dei fattori per cui sto facendo questo video possono far scegliere se acquistare una console rispetto a un'altra in quel video però la cosa ovviamente che mi aveva molto colpito era il fatto che nei commenti tantissimi utenti mi avevano scritto segnalandomi di togliere assolutamente la console da questa posizione cioè questo vano perché aveva sicuramente dei problemi di surriscaldamento si sarebbe sicuramente danneggiata ovviamente quegli utenti non potevano sapere che all'interno di questo vano io avessi creato un sistema di raffreddamento anche perché in quel video non avevo parlato assolutamente di niente riguardante appunto la mia console in particolare e quello che era appunto l'utilizzo che ne facevo io all'interno di questo vano e tornando appunto al discorso dell'estetica che sicuramente secondo me è un pro di Xbox è il fatto che il design di questa console che è molto meno invasivo rispetto a quello che ha playstation ci permette un'integrazione molto più sobria all'interno del mobile della sala perché come avevo detto sempre in quel video a me piace giocare in sala quindi stando sul divano quindi la console non la tengo nello studio dove c'è il monitor dove faccio i video ma la tengo qua in sala dove sto benissimo svaccato sul divano a giocare ai miei videogiochi preferiti mentre playstation ha dimensioni e design molto più particolari e anche molto più invasivo se lo andiamo a mettere nell'armonia di un mobile della sala quindi andando ad inserire la mia console in questo vano dove avrei potuto mettere anche una playstation per esempio c'è comunque un discorso di generazione di calore all'interno di un vano completamente chiuso a parte la parte qua frontale quindi il calore che va a generarsi qua dentro diventa davvero importante quando stiamo giocando perché finché la console sta ferma in pausa come in questo caso con la schermata home e basta le temperature salgono ma di poco rispetto a quello che è la temperatura dell'ambiente mentre quando stiamo giocando viene generato un calore davvero pazzesco quindi sia che sia playstation che sia che sia xbox in situazioni come queste dove andiamo a mettere all'interno di un mobile dobbiamo creargli un sistema di raffreddamento nel mio caso ho creato un sistema di raffreddamento utilizzando due ventole economicissime sono due ventole da 12 centimetri disponibili su amazon vi lascio qua sotto i link in descrizione che ci permettono di tenere le temperature come vedremo tra poco davvero molto basse anche mentre stiamo giocando a giochi abbastanza pesanti come vedremo che è diabolo 4 allora la console xbox come funziona lei pesca l'aria da qua sotto o meglio da qua dietro perché comunque questa console si può mettere in verticale o in orizzontale come in questo caso stessa cosa per playstation quindi l'aria viene pescata da qua l'aria chiamiamola fresca viene sparata da questa parte che se la console è in verticale viene sparata verso l'alto quindi viene dissipata e se ne va e lei pesca ancora l'aria fresca da sotto e via mentre qua si crea un calore che sta all'interno di questo vano perché l'aria viene sparata qua qua poi si ferma contro la parete del mobile e va a stazionare per la maggior parte in questa posizione quindi qua si creerà un calore incredibile che poi va comunque a spostarsi all'interno del vano e la console andrà a ripescare con i fori qua sotto ma anche con il sistema di raffreddamento a fori che abbiamo anche dietro alla console va a pescare l'aria fresca che poi viene ributtata come abbiamo detto da sopra allora ovviamente questo problema è un problema che si ha se la console viene messa in un mobile però se la vogliamo avere in una sala è un problema da affrontare allora per affrontare questo problema io ho utilizzato come abbiamo detto due ventole una l'ho posizionata in questa posizione che va a buttarmi fuori il calore che va a stazionare qua quindi vedete che in un attimo mi trovo il calore che esce da quello che è il mio vano del mobile della sala stessa cosa accade nella parte posteriore nel senso che per fargli entrare aria fresca al sistema di raffreddamento la in fondo ho messo un'altra ventola di raffreddamento sono due ventole che si collegano usb ad un'unica usb che viene sdoppiata dal cavo che ci viene dato in dotazione e possiamo dare davvero tanta aria fresca e mantenere temperature bassissime alle nostre console allora adesso vi faccio vedere in azione il mio sistema di raffreddamento io ho messo un interruttore qua per accendere e spegnere perché sono collegate usb alla console perché ovviamente la console ha dietro due prese usb ne ho utilizzata una per poterla accendere e spegnere perché comunque la console una volta che la spengo la usb è alimentata quindi le ventole continuerebbero ad andare quindi io spengo da questo interruttore le mie ventoline adesso le ho accese e vedete come la ventola in questo caso mi butta fuori il calore che va a generarsi qua ovviamente questo calore adesso è basso che come abbiamo detto mentre siamo nelle schermate home della console il calore davvero basso mentre quando giochiamo vediamo che sale davvero tanto di temperatura le parti che diventano più caldo ovviamente sono questa parte qua perché esce l'aria buttata dalla console e poi questa qua è la parte che diventa più calda se voi ci mettete la mano sentite che questa parte qua diventa davvero molto molto calda poi io sono un po' un manico di queste cose quindi ho stampato questi due supporti in stampa 3d per andare alzare la console anche dal piano d'appoggio quindi vedete che c'è più di un dito di spazio per far circolare l'aria anche da questa parte però questo è un di più non è obbligatorio però se potete farlo avete la stampante 3d fatelo perché vi permette davvero di far circolare l'aria in maniera ottimale quindi per fare questa prova andremo ad utilizzare dei termometri digitali come questi che hanno da questa parte i fori dove il sensore andrà a prendere l'aria che poi verrà misurata in gradi centigradi allora come vedete nell'ambiente ho 26,4 gradi la prima prova che andremo a fare mettere questi termometri in questa posizione e appoggiato qua che sono le due parti come abbiamo detto più calde questo lo faremo però tenendo le ventole spente ma nella schermata home così che possiate capire che temperature abbiamo quando siamo nelle schermate home e mentre non stiamo utilizzando nessun gioco e senza nessun tipo di raffreddamento anche se siamo all'interno di questo vano una volta visto queste due temperature con la console accesa da più o meno mezz'ora andiamo a vedere le temperature che riesce a raggiungere la console all'interno di un vano come questo mentre stiamo giocando ad un gioco tipo diablo 4 e lo faremo per 30 minuti consecutivi e vediamo la temperatura che raggiunge senza utilizzare nessun tipo di raffreddamento quindi le ventole rimarranno spente giocherò per mezz'ora e vediamo i termometri a che temperatura riescono ad arrivare una volta che abbiamo raggiunto la mezz'ora di gioco andrò ad accendere le ventole e farò un'altra mezz'ora di gioco sempre con i termometri nella stessa identica posizione ma con le ventole appunto che vanno a dissipare a generare aria aria fresca che viene aspirata e quest'aria calda che viene buttata fuori da quello che è il mobile o comunque il vano mobile in cui è inserita la console quindi detto tutto questo adesso direi di non perdere altro tempo e iniziamo il test allora con la console nella pagina home quindi ferma senza lavorare con la ventole di raffreddamento spenta abbiamo 31 gradi sulla parte in cui viene buttato fuori il calore della console mentre sulla parte superiore della console quella dove c'è molto surriscaldamento abbiamo 32 gradi queste sono le temperature con la console quando nella schermata home mentre dopo aver giocato per 30 minuti a diablo 4 con il sistema di raffreddamento spento abbiamo 41 gradi sulla parte in cui viene buttata fuori l'aria calda dalla console e abbiamo invece sulla parte superiore della console 40,4 gradi queste sono le temperature dopo 30 minuti di utilizzo con diablo 4 dopo altri 30 minuti giocati a diablo 4 con le ventole di raffreddamento accese abbiamo 31,3 per quanto riguarda la parte in cui viene buttata fuori l'aria calda mentre sulla parte superiore della console abbiamo 30,1 quindi siamo scesi di ben 10 gradi di temperatura perfetto avete visto come le temperature cambiano notevolmente se abbiamo la console inserita in un vano come questo se andiamo a mettere un sistema di raffreddamento io vi straconsiglio di fare una cosa di questo tipo se avete una console all'interno di un mobile così mentre se ce l'avete ovviamente esposta sopra un ripiano come potrebbe potuto essere questa posizione o questa allora no non c'è necessità ma se la volete integrare all'interno di un mobile dovete andare assolutamente a dissipare il suo calore quindi il sistema di raffreddamento all'interno di un mobile va sicuramente installato soprattutto in un periodo estivo come quello che stiamo attraversando adesso ovviamente quando arriva l'autunno e l'inverno la situazione già migliora di per sé però comunque va buttato fuori il calore che viene generato all'interno di un vano come questo perché davvero diventa aria non calda di più quella che si genera qua dentro avete visto le temperature che vanno anche oltre i 40 gradi e questi 40 gradi sono continui quindi poi tutto questo va a ripercuotersi sulle prestazioni del quello che è la console quindi magari con rallentamenti nei giochi fino addirittura arrivare a danneggiare quello che è l'hardware della console quindi ragazzi se questo è il mio video in cui vi ho portato la mia prova il mio test per andare a raffreddare quello che sono le vostre console installate in un mobile come in questa situazione vi è piaciuto e l'avete trovato utile ed interessante lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su Instagram dove porto tante novitanti e prima spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale Telegram offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i drone e tutta la tecnologia in generale ma soprattutto iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video un volo, una recensione, un testo, un tutorial, una novità ciao e al prossimo video